Ciao a tutti amici di TheRumaview, ben trovati, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare il secondo box dei Cavalieri dello Zodiaco per la prima volta vi ricordo in Blu-ray nel mese di marzo vi ho presentato il primo box e in questo mese di maggio vi vado a presentare il secondo box dei Cavalieri dello Zodiaco realizzato da Yamato per la distribuzione della Eagle Picture è un bel box classico di Yamato, contrariamente ad altre uscite non è numerato come anche per il primo box e all'interno troviamo, oltre c'è anche una stampetta interna come potete vedere all'interno troviamo ovviamente la Marai cicciottosa con tutti i dischi qui abbiamo altri 4 dischi Blu-ray dal disco 5 al disco 8 devo dire che la qualità è molto buona magari non di impatto come è stato per altri anime come Lamu o Judo Boy per esempio però vi basterà, se avete schermi di grosse diagonali vi basterà inserire prima il DVD e poi il Blu-ray soprattutto senza utilizzare i filtri del lettore per accorgervi della totale differenza tra un video e l'altro ma la particolarità di questa uscita, io non ho ancora risposto a chi aveva commentato sull'altro box e che non ho avuto il tempo è che in queste uscite abbiamo recuperato le scene integrali doppiate in italiano e anche le anticipazioni doppiate in italiano con il doppiaggio di Ivo De Palma che erano cose che nel precedente uscita in DVD non c'erano nelle precedenti uscite quindi io vi consiglio comunque se siete fan dei Cavalieri di recuperare questo box perché c'è comunque del materiale inedito e poi abbiamo la possibilità di scegliere quale cover ci interessa di più ma ovviamente poi l'ha inserito all'interno della slipcase quindi non so questa cosa quanto vi cambia e abbiamo anche la presenza del booklet ovviamente audio italiano 2.0 HD e anche giapponese, è un prodotto televisivo e quindi non aspettatevi 5.1 e poi ovviamente nel booklet la presenza degli art ovvero la presenza di tutti i protagonisti di questo box che conclude la saga del Grande Tempio la prossima uscita prevista per luglio ci darà la possibilità di completare la serie classica con Nettuno e quella di Asgard e poi vedremo se magari ci sarà la possibilità di andare avanti con i film e anche appunto con Nade non ci è dato ancora sapere ma come vi sto mostrando insomma qui c'è veramente tanto materiale in questo booklet una volta presentati i cavalieri d'oro abbiamo le sinossi di tutti gli episodi presenti in questo box andiamo avanti se no ci siamo tantissimo e poi abbiamo ovviamente altri art per quanto riguarda sempre i cavalieri dello zodiaco in questo caso i cavalieri d'oro nulla da dire veramente un bel booklet ovviamente queste socchicchette che solo i veri appassionati insomma della saga o comunque delle opere asiatiche hanno interesse a possedere e conservare questo è un box che trovate disponibile un po' ovunque io vi lascio il link in descrizione ad Amazon come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi unboxing noi ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti